Salve a tutti, buon sabato, buon fine settimana. Vi ruberò pochi minuti per raccontarvi di un fatto molto grave. Un fatto grave che si sta consumando nel silenzio totale nelle aule della Camera dei Deputati, del Parlamento, con la connivenza di praticamente tutta la maggioranza che sostiene questo Governo e che ha come scopo quello di impedire che si sappia la verità sulla pandemia, di impedire che venga condotta un'inchiesta rigorosa, seria, completa sulla pandemia, con la complicità, con la responsabilità di praticamente tutti i partiti che regolano l'attuale maggioranza di Governo. Un fatto gravissimo. È un insabbiamento istituzionale finalizzato a evitare, dirò delle cose di cui mi assumo tutta la responsabilità, con la finalità di evitare che si sappia che cosa è accaduto in questo anno e mezzo su tutte le responsabilità del Governo, del Ministero, di Speranza, di Conte e non solo sul perché non è stato aggiornato il piano pandemico, sul perché non è stato attivato il piano pandemico, sul perché le cure domiciliari non si sono volute realmente valorizzare, sul perché si è ritenuto di procedere in questa maniera sul piano di tutto, dai vaccini, dalle cure, da tutto, il verbale a task force, un'operazione di insabbiamento condotta con la complicità di tutti, di tutti, dispiace dirlo, i partiti di maggioranza. Tolto evidentemente Fratelli Italia non solo perché non è in maggioranza, ma perché noi abbiamo assunto una posizione ben diversa. Ancora una volta farò parlare di documenti ufficiali, documenti su carta intestata di Camere Deputati pubblicate sulla Gazzetta Ufficiali, documenti inoppugnabili, chiunque mi voglia può correlarmi, tanti documenti parlano chiarissimi, quindi anzi ben volentieri che forse riusciremo a andare a fondo a questa che è una vergogna, una vergogna istituzionalizzata, perché dovete sapere che nelle scorse settimane è stata proposta una commissione di inchiesta da parte dei Fratelli d'Italia con la finalità evidente, il primo firmatario, qui c'è scritto, il primo firmatario Giorgia Meloni, Lolo Brigida, il sottoscritto, istituzione e la commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2. Questa era la nostra proposta, era una proposta che, come dice l'articolo 3, aveva il compito di accertare le ragioni per le quali non era stato fattuato l'aggiornamento del piano pandemico, acclarare per quale motivo è mancata attivazione del piano nonostante dedicazione all'emergenza, accertare per quale ragioni in alcune del comitato tecnico sia mai stato trattato l'argomento, per quale motivo ci sono dei documenti che sono stati occultati, li vedete tutti, su tutto, lo vedete, arriva a essere molto dettagliata, perché noi ritenevamo necessario che questa commissione di inchiesta andasse a fondo, senza lasciare nulla di intentato. Queste commissioni di inchiesta non sono una cosa strana, Svezia, Gran Bretagna, Belgio, credo la Francia, un po' tutte le hanno già fatte. Succede che viene fatta, noi volevamo fare la Camera e il Senato assieme per essere più forti, la commissione di inchiesta è uno strumento potente se usato bene e devastante se usato male. Potente perché è come se la magistratura indagasse, perché ha gli stessi poteri della magistratura, può chiusire documenti, può chiusire testimonianze, può svolgere attività istruttuale, ha tutto segretato, ma necessario, negli esiti conclusivi viene poi reso pubblico. Viene a questo punto presentata una proposta di legge, una proposta di legge parallela, primi firmatari, vedete, 28 maggio 2020, giustizio per carità, con cui si dice, e questa è, istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia e sulla congruità delle misure adottate negli Stati e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È molto più breve, vedete, la commissione ha il compito di esaminare la responsabilità relativa allo scoppio della pandemia di SARS e di accertare l'effettiva congruità del comportamento ottenuto dagli stati di origine dell'infezione, eccetera, eccetera. Molto più stretta, ma ci andava bene, ci andava bene perché a noi comunque non è che interessa di mettere il cappello, non è che ci interessa chi arriva prima, va bene, l'importante è appurare la verità. Questa commissione di inchiesta, questa proposta va avanti, fino a che l'8 luglio, quindi parliamo di una settimana fa, tra l'altro lo stesso giorno in cui centinaia e centinaia di famiglie presentavano, dinanzi al Tribunale di Roma, la causa per chiedere che venisse appurata la verità, quindi anche lo stesso giorno uno sfreggio vergognoso, vergognoso, viene presentato un pacchetto di emendamenti a questa commissione che stravolge totalmente tutto, l'ultimo giorno utile praticamente, questa commissione, avete visto, risale alla sua proposta il 20 maggio, abbiamo detto 28 maggio 2020, a un anno e più di distanza viene presentato un pacchetto di emendamenti con cui che cosa si fa? Si cambia tutto, qui ci sono i due testi, questa è la gazzetta ufficiale, atti parlamentari, vedete, per i soliti cialtroni che poi iniziano a parlare di fake news, ecco, qui qualcuno può andare a vedere, no? Atti, questa è la gazzetta ufficiale, quindi lo dico già ai cialtroncelli che inizieranno a dire, eh, tutte cavolate, benissimo, questa, da questa parte è il test iniziale, questo è quello che è stato licenziato e che verrà votato da settimana prossima alla Camera dei Deputati, guardate, quella che doveva essere una commissione d'inchiesta parlamentare sulle caude dello scopo della pandemia e sulla congruità delle misure adottate dagli stati di origine, dagli stati e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità diventa una commissione d'inchiesta sulla pandemia, sulle congruità delle misure adottate dagli stati di origine, solo gli stati di origine, spariscono tutti gli altri stati. Poi vai a vedere l'articolo 1, che qui diceva, è istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle caude dello scopo della pandemia SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli stati e dall'OMS per evitare una propagazione, diventa, è istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle caude dello scopo della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli stati in cui il virus si è manifestato inizialmente. Con riferimento, attenzione anche qua, al periodo, antecedente alla dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale avvenuta il 30 gennaio 2020. Avete capito? Bene. Mentre inizialmente la commissione doveva verificare tutto ciò che era successo, anche in Italia, da quando la pandemia è scoppiata a oggi con un blitz a cui hanno partecipato deputati rosso-gialli, hanno partecipato il PD, ha partecipato l'EU, ha partecipato il 5 Stelle, dispiace dirlo, anche parlamentari di centro-destra, non di fratelli d'Italia, hanno votato una modifica che introduce due limiti fondamentali a questa commissione di inchiesta. Potrà indagare solo sulla Cina, gli stati di origine, quindi non più sull'Italia e solo nel periodo precedente al 30 gennaio 2020. Ma ci prendete per i fondelli? Ci prendete per scemi? Voi ci dite che la commissione di inchiesta che doveva verificare che fine aveva fatto il piano pandemico, perché non era stato aggiornato, perché non era stato attivato, perché i militari erano stati mandati poi ritirati dalla Val Seriana, perché non venivano fatti i tamponi, perché i cinesi venivano fatti sbarcare in Italia mentre gli italiani venivano messi in quarantena, perché non si poteva sapere ciò che era contenuto nel dossier fatto da Francesco Zambon, perché il capigabinetto di Speranza incontrò Ragneri Guerra dicendoli di ritirare, perché Ragneri incontrò il capigabinetto, per quale motivo Brusaferro e tutti gli altri facciamo nomi e cognomi? Perché ci siamo stancati di essere presi in giro, per quale motivo Brusaferro diceva il virus non circola in Italia a febbraio? Ecco tutto ciò esce dalla commissione d'inchiesta e noi potremmo indagare solo sulla Cina per il periodo prima del 30 gennaio 2020. Ma ci prendete per scemi? Secondo voi la Cina dirà prego accomodatevi, guardate qua sono i laboratori di Wuhan, vedete tutto a posto? Ah grazie, non c'è problema, no davvero, guardate qui, no no, non vogliamo disturbare, guardate questo è un documento del 32 gennaio, no non possiamo perché noi dobbiamo solo guardare ciò che è prima del 30 gennaio. Noi vogliamo sapere tutto su quello che è stato fatto, perché state coprendo Speranza, Conte, il Ministero, perché state coprendo tutto ciò che è stato compiuto dal governo italiano dall'inizio della pandemia? Sulla diffusione del vaccino? Da dove origina? Chi l'ha mandato? Perché in Italia non eravamo pronti? Perché non c'era il piano pandemico? Chi lo doveva aggiornare? Chi ha sbagliato? Perché Ranieri Guerra parla di D'Alema? Perché non volete? Il Presidente Fassino, che è quello che ha istruito tutto, dicendo non si può guardare troppo, perché non vuoi che indaghiamo in tutto e per tutto? Perché non vuoi che andiamo a vedere le commesse che la Cina organizzava verso l'Italia o perché partivano tonnellate di materiali il 15 febbraio del 2020 verso la Cina? 15 febbraio, quindi dopo il 30 e quindi non potremmo indagare? Perché non vuoi che andiamo a vedere che cosa c'è scritto sui verbali task force successivi? Successivi al 30 gennaio e quindi anche questi esclusi? Perché non possiamo andare a vedere che cosa si dicevano i ministri? Perché non vuoi che andiamo a vedere perché il capigabinetto Zaccardi diceva a Ranieri Guerra il report di Zambone è meglio lasciarlo far morire? Pensi che l'OMS ci dica noi siamo la casa di vetro, prego accomodatevi, non c'è problema, l'importante è che si prendete il 30 gennaio, ma ci prendete per cretini? Questa è un'operazione di insabbiamento istituzionalizzato con la partecipazione di tutte le forze di maggioranza e io mi assumo la responsabilità fino all'ultima goccia, perché è una vergogna che non vogliate far sapere agli italiani che cosa è capitato, di che cosa avete paura, perché questa roba è lì da una settimana, dieci giorni e non un Tg, non un giornalone, nessuno del mainstream può dire il pluralismo, vediamo il pluralismo come l'ho garantita, lo vediamo come l'ha garantita il pluralismo, vogliamo anche vedere un po' di nomi? Guardiamo un po' di nomi, guardate, viene presentato, qua ci sono i nomi di quelli che dicono che dobbiamo assolutamente presentare questo emendamento perché altrimenti, vedete Carnevale, il PD ne condivide la necessità di effettuare un approfondimento sulle misure ad adottare per assicurare etc., 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 dice non appare idoneo lo strumento della commissione inchiesta, che come confermato da quanto accaduto nel passato di gelature, presenta i caratteristici non rilevanti e quindi è meglio non estendere troppo quello che va fatto, Laura Boldrini subito, ecco immediatamente vediamo che cosa va fatto perché le commissioni di inchiesta su questa materia, tutto sommato, sono cose che più di tanto non servono, e guardate anche qua, questi sono gli emendamenti, atto camera, potete andare a vedere, sono tutti gli atti che troverete, troverete anche le parole del Presidente Fassino che dice Fassino, non dubito per carità, tuttavia bisogna stare attenti perché ci sono già stati delle strumentalizzazioni che bisogna evitare, strumentalizzazioni Fassino, strumentalizzazioni di che cosa stiamo parlando? Strumentalizzazioni nel sapere la verità, perché non volete che si indacchi? Perché non volete che si sappia da chi sono stati comprati i ventilatori? Perché Ragneri Guerra dice che l'OMS è la consapevole foglia di fico? E che quando scrive a Zambon dicendo dovete ritirare quel report perché parliamo di vicende e chiama in causa D'Alema? Cosa c'entra D'Alema? Questa commissione inchiesta poteva verificarlo, perché l'avete stravolta con un blitz l'ultimo giorno senza che nessuno potesse poi più verificarne il contenuto e adesso va in aula a prenderlo o lasciare? Tutti, tutti, ci sono emendamenti, dispiace dirlo, di Palazzotto, di Leo, di Carnevali del PD, di Sportiello del 5 Stelle e anche di colleghi della Lega. Perché vogliono fare tutto ciò? Perché vogliono insabbiare la verità. È questo che noi non consentiremo avvenga, abbiamo fatto ricorsi al Tarvi, siete presi delle condanne, caro Ministro Speranza, tu e il tuo Ministero, siete stati costretti, ci saranno delle notizie, le abbiamo divulgate, vediamo se qualcuno avrà il coraggio di riprenderle, ma nessuno ne parlerà da nessuna parte. Poi ci dicono complottismo, complottismo no, anzi al contrario, noi vogliamo solo vedere tutta la verità. Perché le cure domiciliari non si potevano valorizzare? Avrete avuto dei dati effettivi per i quali il coronavirus non poteva essere contrastato con quegli strumenti? Perché il piano pandemico non poteva essere attivato? Avete avuto delle valutazioni per il quale questo piano pandemico non doveva essere attivato? Perché il repro di Zambona andava ritirato? Avrete avuto delle valutazioni? Fatecelo vedere. Se avete operato bene, cari compagni, cari sinistrati, se siete convinti di aver operato nel modo migliore possibile, di che cosa avete paura? Evidentemente se volete nascondere la verità c'è qualcosa di cui avete paura e invece noi vogliamo vedere tutti i documenti. Fatelo sapere, diffondete, fate conoscere, perché adesso inizieranno a dire abbiamo fatto la commissione d'inchiesta e non è emerso nulla. E certo, l'avete limitata prima del 30 gennaio, la pandemia scoppia dopo è stata dichiarata pandemia e solo alla Cina, solo alla Cina, solo alla Cina, in Italia non possiamo vedere. Io chiedo scusate ma Speranza no, Speranza non è cinese, forse, però è comunista, forse. E perché allora volete impedirci? Perché diranno, noi abbiamo fatto la commissione d'inchiesta e vi prenderanno tutti in giro, perché quella commissione d'inchiesta che stanno creando in realtà è una foglia di fico e un'enorme opera di distrazione di massa di cui gli italiani devono nel loro piano essere vittime perché che possono dire la commissione l'abbiamo fatta e non è emerso nulla. Diffondete questo video, fate sapere la verità, perché noi dobbiamo essere consapevoli che quella commissione d'inchiesta è fatta solo ed esclusivamente per impedire che si affronti la verità delle cose, le responsabilità di Speranza, le responsabilità di chi governava, le responsabilità dei Rosso Gialli, le responsabilità di PD e 5 Stelle, le responsabilità di tutti coloro che avevano il dovere di rispondere alla pandemia. Sia chiaro, errori ne sono stati commessi, noi non vogliamo colpevolizzare, perché chi poteva affrontare con prontezza quella situazione, ma nel momento in cui Speranza e i suoi dicono non abbiamo commesso errore, erano tutte scelte giuste, allora ti assumi la responsabilità di quello che hai fatto e ne vieni a rispondere in Parlamento, non con commissione d'inchiesta farsa, ma con commissione d'inchieste vere, come quella che con Meloni, Lolo Brigida e io abbiamo presentato. E se non la vuoi è perché vuoi nascondere i tuoi scheletri nel armadio, noi con gli armadi li scardineremo, perché bisogna che gli italiani sappiano la verità, chi sbaglia paga e bisogna assumersi le responsabilità di quello che viene fatto, altrimenti si è dei pusillanimi, complici di un sistema malato e marcio, che evidentemente ha come unica finalità quella di nascondere ciò che è accaduto. Vi chiedo di far sapere la verità, perché altrimenti tutto ciò passerà sotto silenzio.